Carissimi parrocchiani della parrocchia di Santa Brigida, amici e benefattori e parrocchiani di altre parrocchie che ci seguono ogni settimana per la nostra meditazione sulla parola della domenica che si avvicina. Questa volta celebraremo la festa di Pentecoste. La Pentecoste è 50 giorni dopo la risurrezione del Signore. E con questa festa ricordiamo i doni che lo Spirito Santo ci ha portato come dono del Padre e del Figlio. La sapienza, la capacità di comprendere, il coraggio, la capacità di consigliare altri, la conoscere, la reverenza Dio e lo Spirito di meraviglia. Sono tutti i doni che lo Spirito ci porta e che certamente abbiamo bisogno di questi doni lungo il cammino della vita, lungo il cammino della fede per avvicinarci sempre più al Regno di Dio. Ma vogliamo ricordare nel Vangelo d'oggi come Gesù manda lo Spirito Santo agli Apostoli e per fare quello lo Spirito Santo arriva, entra e soffia il suo Spirito su di loro che appare come queste fiamme così sopra di loro, dando loro quello di cui avevano bisogno per compiere la missione che Gesù aveva dato loro. Vogliamo anche collegarci con quello che è stata la creazione quando Dio creando l'uomo ha soffiato il suo Spirito su di loro e così ha ricevuto la vita. Però quella creazione come stato di grazia si era persa e allora siamo venuti poi al momento della ricreazione. Ecco perché la presenza dello Spirito Santo che riceviamo noi la prima volta al momento del Battesimo diventa una ricreazione e abbiamo bisogno di quel soffio dello Spirito, di quella vita di Dio dentro di noi che ci viene attraverso il Battesimo. Vogliamo prendere questa occasione per dire che questa festa è la festa che ci fa vivere come Chiesa perché è stata la festa che ha data la fondazione della Chiesa come tale della Chiesa missionaria ispirata dallo Spirito Santo e la maniera come Gesù ci ha assicurato la sua presenza fino alla fine dei tempi. Buona domenica a tutti.